Ciao a tutti Ciao a tutti, buon pomeriggio Ciao Oggi a furor di popolo The winner is Il polpettone E non l'avrei mai detto Pensavo avreste scelto le cozze fritte Invece avete scelto il polpettone Con mia estrema sorpresa Però facciamo il polpettone Ciao Silvana Ciao Nicoletta, ciao Daniela Ladies and gentlemen Ciao Marina Allora, aspetta, facciamo subito i saluti Madame e Messie Signore e signori Benvenuti in questa nuova Fantastica Diretta Presenta La nostra unica Grande Bellissima chef Grazella Giannuzzi Ecco Questa cosa non era preparata Ve lo giuro Va bene Allora Salutiamo Mattias Ciao a zia E Noemi Ciao Noemi Ok Allora Prepariamo il polpettone Insieme Gli ingredienti Per preparare il polpettone Gli ingredienti base Sono Macinato misto Macinato misto Uova Allora Macinato misto Uova Latte Un panino di medie dimensioni Poi vi spiegherò tutto Del formaggio grattugiato Il prezzemolo Il sale E il pepe Questi sono gli ingredienti base Dopodiché abbiamo Gli ingredienti Che io ho scelto Per farcire il polpettone Questi vanno a gusto Vanno a necessità Vanno A desiderio A sentimento Come vi piacciono Iniziamo preparando però Il polpettone E poi passiamo Allo di pieno Allora Io ho scelto Del macinato misto Questo è un altro Non è il segreto Però è una maniera Per avere un polpettone Morbido Quindi In questo macinato C'è tutto C'è carne di maiale C'è un pezzettino Di carne di pollo C'è tutto Se voi fate Il macinato In questa maniera Avrete un polpettone Bello morbido E succulento Se voi Decidete E volete Potete farlo anche solamente Metà manzo O vitello E metà maiale E verrà buonissimo Ora Andiamo ad aggiungere Subito il latte Al panino Per farlo ammorbidire Ecco qua Io sapevo che avrei Bannato Il Piano di lavoro Però asciugiamo subito Raggiungiamo il latte E facciamo in modo Che sia coperto Allora Vi dico la verità Io oggi Lo sto facendo col pane Ma io di solito Non metto il pane Metto solamente il latte Però Siccome si fa così Ve lo faccio vedere così Poi vi spiego anche perché Ok Facciamo ammorbidire Ammorbidire Il pane Quindi Sì Tonio Non ti preoccupare La prossima volta Faremo le cozze Allora Abbiamo detto La carne È macinata Che hai tu? Nel frattempo Abbiamo messo Ad ammorbidire Il pane Nel latte Andiamo a condire La carne macinata Con il sale Anche qui Regolatevi A seconda Dei vostri gusti Il pepe E il prezzemolo Ecco Basta questo Questo qua Lo possiamo togliere Non serve E lo stesso Facciamo con le uova Le andiamo A condire Con un po' di sale E un po' di pepe Non so che Non c'è più pepe Nel macinino Perché non sento più Cric Cric È pochissimo Sicuramente Va bene Poi lo mettiamo E andiamo A sbattere le uova Ok Abbiamo Gli ingredienti Per la base Sono tutti pronti Quindi sono Il macinato misto Come vi ho detto Le uova Il pane ammorbidito Nel latte Il latte E il formaggio Ora Io non andrò A strizzare Il pane Io faccio sempre così E mi viene un polpettone Ammorbidissimo Quindi Prendo il pane Il panino Che io ho Ammorbidito Nel latte E lo aggiungo Alla carne macinata Senza strizzarlo Ecco perché vi ho detto Io utilizzo due metodi Se ho Ecco diciamo la verità Se ho Poca carne macinata E Ho il sospetto Che sia poca Per gli ospiti che ho Allora Aggiungo un po' di pane Così aumenta un po' di volume Di quantità Se invece La carne macinata Che ho È sufficiente E credo sia sufficiente Io non aggiungo Il pane Ma aggiungo solo il latte Perché non mi va Di aggiungere il pane Visto che è carne Facciamo carne Senza aggiungere il pane Va bene? A questo Andiamo ad aggiungere Non ne metto Tutte e due le uova Vediamo quelle Di cui avrò bisogno Per il momento Ne aggiungo metà Il prezzemolo L'ho messo C'è tutto E adesso Andiamo ad impastare Inizio con la forchetta Per non sporcarmi troppo Le mani Però non è cosa Devo fare Aggiungo anche un po' di formaggio Visto che ho questo pezzo Lo vado a spezzettare Perché è buono Dimmi se c'è già qualche domanda Speriamo che non si sentono I rumori che arrivano Dall'esterno Perché tutto oggi Devono fare Aggiungo un po' di formaggio Allora il mio è grana Credo Perché lo vedo Un po' troppo fresco Però voi Se ce l'avete più stagionato È meglio Però potete utilizzare Grana, parmigiano Pecorino Quello che voi preferite E andiamo ad impastare Allora Vi dico un'altra cosa Per ottenere Il polpettone Ma di testa Per ottenere Il polpettone Morbido Io ho sbattuto Tuorli e albumi Su mezzo chilo Di carne macinata Ma se voi Doveste fare Una quantità Di carne macinata Maggiore Il mio consiglio È quello di Aggiungere Alle due uova base Albume E tuorlo Solo tuorli Perché l'albume Va ad asciugare tanto Va a tirare tanto Il composto E vuol far venire asciutto Un'altra cosa Qual è Secondo me L'ingrediente Che non va messo Assolutamente Nel polpettone Di carne Il pangrattato Perché Il pangrattato Come si sa Si utilizza Per asciugare Le preparazioni E quindi Quando abbiamo Un prodotto Troppo umido Noi cosa facciamo Aggiungiamo Il pangrattato Finché non arriva Della consistenza Che noi desideriamo Non è della consistenza Che noi desideriamo Nel caso del polpettone Noi Non dobbiamo mettere Il pangrattato Altrimenti Va ad asciugare E ad assorbire Tutti i liquidi Di cottura Del polpettone Rendendolo asciutto Ora Come vedete Per me È già perfetto Manca Solo questo Da due uova Non le ho messe tutte Vedete È morbido Io vorrei aggiungere Anche questo latte Perché mi dispiace E soprattutto Perché È il latte A dare morbidezza Alla carne Ecco Come vedete Adesso è bello morbido Ed è perfetto Aggiungo solamente Un altro po' Di formaggio E basta L'aglio ci va? Eh? L'aglio Allora L'aglio A chi piace Sì Io non lo aggiungerò Perché mangiandolo di sera Noce moscata Sì Aglio Noce moscata Potete aggiungere Quello che preferite Allora Noce moscata Non piace Adesso l'avrei detto Sia dell'aglio Che della noce moscata Ok Basta È morbido E si sente già Che è sufficiente Sono sufficienti Le uova che abbiamo messo Questo è il polpettone Già pronto Mi raccomando Se usate la carne macinata Che sia fresca Di giornata Non tenete il macinato Nel frigorifero Perché la carica batterica Della carne macinata Aumenta Di minuto in minuto Ok? Ora io mi vado a lavarle i mani E arrivo nel frattempo Se c'è qualche domanda Fatela Allora C'è qualche domanda C'è qualche domanda? Ed Dimmi 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 Dici c'è qualche domanda Farsi con la testa Ma non parla No Dimmi Qual è la domanda? No È tutto chiaro Grazie per il consiglio È prontrattato Il fattore prontrattato Vabbè Ora Io Per farcire Il nostro polpettone Ho scelto Fagiolini E formaggio Il formaggio che ho scelto È un formaggio morbido Che si chiama Posso dire come si chiama? Sì Asiago Non è Quindi Ora Che cosa facciamo? Andiamo a tagliare un po' i fagiolini Perché li ho lasciati lunghi Parliamo di un'altra cosa Dei fagiolini Come vedete I miei fagiolini Mi inquadra bene Del mio orto Ecco Ora lo stavo per dire Vedete come sono belli verdi? Ora vi spiego anche Di stagione Sì Sono di stagione Adesso E se sono del tuo orto Sono di stagione Aspetta Fammi finire Già Vedete come sono belli verdi? Adesso vi dico Come fare Per ottenerli così verdi Dimmi Che è successo? Mi sono persa Perché no Il pane grattugiato? Perché il pane grattugiato Asciuga Il polpettone Va ad assorbire Tutti i liquidi di cottura E rende il polpettone asciutto Sì Stai preparando un polpettone? Sì Sto preparando un polpettone Ripiedo di fagiolini Per l'interdata Sì Un polpettone Anche se c'è nel posto Anche se sta scritto Nel posto Sì Sta scritto Nel posto Questo tanto è di panino Con l'altro Lo possiamo utilizzare Mi vado a tagliare Leggermente Non troppo piccoli E ora vi dico Come ho fatto O come si fa Per ottenere dei fagiolini Belli verdi Allora Innanzitutto I fagiolini Devono essere Freschi Questi nostri Hanno appena 24 ore di vita Perché sono stati raccolti Ieri Da papà di regista E quindi Sono freschissimi Poi Si mettono a cuocere In acqua Che bolle Salata Oppure Se aggiunge il sale Appena messi i fagiolini È la stessa cosa Non si copre Col coperchio Una volta Che il fagiolino Cominciano a bollire Si lasciano cuocere No Perché se tu li copri Diventano scuri Non lo so perché Per quale Lecce della fisica Però diventano scuri Poi C'è chi Aggiunge Io non l'ho mai fatto Però ho sentito Che si fa Con ottimi risultati Un pizzico 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 Proprio Un cicinin Soprattutto Dipende dalla quantità Dei fagiolini Di bicarbonato Ora ho detto Io non l'ho mai fatto Però Ho sentito Che c'è chi lo fa Quindi Freschi Non coprite la pentola Quando state a bollire I fagiolini Qualcuno fa di star nute Non coprite la pentola Quando state a bollire I fagiolini Se volete Provare Aggiungete Un pizzico Ma un pizzico Deve essere Di bicarbonato E poi Un'altra cosa Fate lo shock termico Quando le avete cotti Direttamente Li scolate dall'acqua bollente Li passate in acqua e ghiaccio Questo procedimento Bloccherà la cottura E vi farà rimanere I fagiolini verdissimi Va bene? Ah un'altra cosa La cottura dei fagiolini I fagiolini Non devono scuocere Devono cuocere Ora vi faccio vedere Che i miei fagiolini Sono cotte a punto giusto Allora guardate Pentola normale Non a pressione Pentola normale Non a pressione C'è anche chi cucina Nella pentola a pressione Con due dita ad acqua Si fanno Si 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 fa Però io la pentola a pressione O il terrore Della pentola a pressione Non valeva la pena Vabbè se uno Vabbè se uno Si lo potete Mi stavo facendo vedere La cottura dei fagiolini Che è perfetta Perché non sono troppo cotti Ho perso Vedete Fate così E si spezza Non è moscio Perché è troppo cotto Deve essere Bello Turgido Turgido Ecco Ok E abbiamo detto Anche dei fagiolini Naturalmente Se non vi piacciono I fagiolini Li potete sostituire Con un altro tipo di verdura O con un altro ancora Che adesso vi dico Ora io li taglio tutti Poi se non sono necessari Tanto stasera Questi saranno L'accompagnamento Della polpettura Nessuna domanda c'è Ma che bello Vuol dire che sto spiegando In maniera chiara E abbiamo tagliato E abbiamo tagliato I fagiolini Spostiamo questo E tagliamo Giriamo Il tagliere Lo asciughiamo I fagiolini E andiamo a tagliare Il formaggio Lo tagliamo Adesso vi spiego Tutte le alternative Che potrete utilizzare Al posto Dei fagiolini E della siago Voi lo trovate il video Perché si ha perso Sì 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 Quello metteremo su youtube Su youtube Non lo trovate Allora tu hai usato il bicarbonato E funziona Ecco vedi Io l'avevo sentito Da un mio collega Che utilizzava il bicarbonato Però io non l'avevo mai fatto Ok Ora lo tagliamo Ad adere Quindi vi dicevo Al posto Dei fagiolini Potete utilizzare Gli spinaci Stai facendo vedere L'arte del coltello L'arte del coltello Tagliare il formaggio Gli spinaci Attenzione Nessuno sapete fare L'ho fatta Le cicorie Che altro Gli spinaci Le cicorie Le bietole Sempre però cotte Mi raccomando O cotte O saltate in padella Quindi spinaci Bietole Cicorie D'inverno I carciofi Oppure i funghi Potete mettere Qualsiasi tipo di verdura Potete mettere Anche un salume Quindi del prosciutto cotto Del prosciutto crudo Dello speck Della mortadella Della porchetta Oppure preparare Una frittata Sottilissima Fatta solo Di uova Di uova sbattute E pochissimo formaggio E metterle al centro Del rotolo Che adesso andremo a preparare Naturalmente Al centro Potete mettere Anche le uova sode Però io oggi Lo devo fare light Diciamo light Lo devo fare Un po' più leggero Perché Ci dobbiamo dare Un contegno Diciamo così Ora Prendiamo La santa Carta forno Dovrebbe diventare Santo Colui che l'ha inventata E mettiamo un filo D'olio Proprio un filo E andiamo a cospargerlo Sulla carta forno Così Prendiamo il polpettone E lo adagiamo E cominciamo ad appiattirlo Con le mani Se vedete che il polpettone Si appiccica le mani Vi bagnate con la mano Con l'olio E andate tranquilli Dovete ottenere Un rettangolo Che sia tutto Dello stesso spessore L'abbiamo presa tutta Togliamo le cose Così potete vedere Più facilmente Facciamo così Andiamo A stendere La carne Fino a ottenere Un rettangolo Peperone, melanzane Sì 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 Tutto quello che volete Peperoni, melanzane Salmi, zucchine Ma veramente qualsiasi cosa Che più ne ha più ne ha più ne ha Sì Non c'è limite Sì sì Io ho scelto i fagiolini Perché sono di stagione Ce li avevo che mi ha dato il papà di reggista Avevo una busta di fagiolini E allora ho scelto i fagiolini Ma quello che avete in frigo? La quello che avete in frigo Se è rialzato un po' di verdura grigliata O verdura cotta al forno Utilizzatela tranquillamente Io ho riutilizzato Sì sì Anche c'è la cicoria saltata E' buonissimo con la cicoria Io con la cicoria lo adoro Delle fette di melanzana Potete utilizzare un altro tipo di formaggio Invece di utilizzare la siago Le dosi sono nel link No, il link non c'è Lo metterò una volta pronto il polpettone Saranno nel link Che tutto succede C'è tutto al momento qua Sì Perché la ricetta che avevo è diversa E quella con la pasta sfoglia Adesso ve lo dico lo stesso Però visto che l'ho detto Abbiamo ottenuto Come vedete Un bel rettangolo Lo andiamo a pareggiare Così E' pronto E quindi andiamo a mettere I fagiolini al centro I fagiolini Io non li ho conditi Li ho lasciati Ho messo solamente un filo d'olio E basta Potete mettere la menta Potete mettere il basilico Io li ho lasciati così Li mettiamo al centro così Penso che siano sufficienti Questi quante saranno? Sono due o tre cucchiai di fagiolini spezzettati E ora il formaggio Potreste mettere anche della mozzarella asciutta Non è detto che dovete mettere per forza questo Del galbani Qualsiasi formaggio vi piace Veramente fate come credete L'importante di questa ricetta è che il polpettone non sia asciutto Ma il resto Per il ripieno potete divertirvi come volete Io il formaggio ne metterò un po' Perché poi il ripieno sarà bello filante E anche questo darà succulenza alla carne Beh, basta Buon pezzo? No Ora Che cosa facciamo? Abbiamo sistemato bene il ripieno Lasciamo solamente pochettino pochettino i bordi liberi Con la carta a forno Finora è tutto chiaro? Pronto regista? Sì, sì Quando qualcuno usa la pentapressione Eh va bene La patata sì, la potete mettere Un foto d'acqua sopra il livello dei fagioli Giusto? Un filo d'acqua sopra il livello Per che cosa? Per la cottura nella pentapressione? Sì Ok Allora, ora Con l'aiuto della carta a forno Noi prendiamo la carta a forno E andiamo ad arrotolare E con le mani Aiutiamo il polpettone a contenere il ripieno Si vede? Così Sempre con la carta a forno Andiamo ad arrotolare Prendiamo da questa parte E chiudiamo il polpettone Così Chiudiamo con la carta a forno E andiamo a pressare Bene, così Lo facciamo diventare della forma che vogliamo noi Quindi Vedete? È arrotolato È arrotolato È ripieno Sta tutto dentro Sparito Sparito Magia Questo è il nostro polpettone Ora Un altro piccolo piccolo accorgimento Ma È solo per una questione Mia, personale Che vi faccio questa cosa Se a voi piaccia Lo seguite anche voi Se no fate come sempre Mezzo chilo Mezzo chilo Tutte E 5 cucchiai di parmigiano Circa Però anche qui Va a sentimento Va a gusto Ora Io faccio così Chiudo Però prima devo mettere il rosmarino Mettiamo Dei rametti di rosmarino Se preferite la salvia Mettete la salvia Fate come preferite voi Mettiamo un rametto di rosmarino Così E andiamo A chiudere Così La chiusura Io la farò trovare sotto Ora Ripeto Per una questione mia Personale di gusto Lo metto In una In uno stampo da pulire Che c'è Tutto In uno stampo da pulire Perché Uno perché Rimantiene la forma Ma guardate Perfetto A misura Proprio Giusto Non ho dovuto neanche Fare violenza Sul colpettone Niente Allora Perché lo metto Nello stampo da pulire Perché Si potrebbe mettere Naturalmente Così Nella Teglia Qualsiasi Da forno E tranquillamente Lo cuocete Però Cosa succede Che adesso In cottura Naturalmente I liquidi di cottura Fuoriescono dal pulettone Fuorisceranno dal pulettone E andranno A Sporcare La teglia Nella quale Metteremo il pulettone Naturalmente Per mezz'ora 40 minuti Il tempo di cottura Questi sughi Si bruceranno E a mio gusto Producono un profumo Che a me Non piace Quindi Io che faccio Ecco il pulettone Nello stampo Da pun cake Che mi mantiene La forma Ma soprattutto Mi mantiene I liquidi di cottura All'interno Del polpettone Stesso E mi sono spiegata Vero? È abbastanza chiaro Io penso Che si Quindi non ho scoperto La carta forno La tolgo No la carta forno Non la tolgo Perché così Non si asciuga E rimane bello umido Al massimo La tolgo Solamente Si al massimo La tolgo Solamente 5 minuti Prima di finire La cottura Quello che dicevo Io è il mio suggerimento Di cuoce Ma se ce l'avete E uno stampo Da pun cake Perché così I liquidi di cottura Del polpettone Non fuoriescono Non se ne vanno In giro per la teglia E non bruciano Mi mangono Contenuti Contenuti Nella teglia Nello stampo Ovviamente uno stampo Che contiene A misura Del polpettone Che andiamo a fare Alto Che contiene Così che le liquidi Non si disperdono Non si disperdono Non bruciano E non danno Il cattivo odore E chiaro Perché il sugo Del polpettone Non si sente Il polpettone Però la cosa più importante È che non si sente Il cattivo odore Di carne bruciata Va bene Ok Ora Questo che cosa si fa Si mette In forno A 180 gradi Che sia statico O sia ventilato Va benissimo Lo mettete In cuocere In forno A 180 gradi Per 30 minuti 40 minuti Circa Come facciamo A capire Che il polpettone È cotto Semplicemente Lo andiamo a punzecchiare O con una forchetta O con uno Stuzzicadenti Se il liquido Che fuoriesce È chiaro Il polpettone È cotto Se il liquido Che fuoriesce È rosa O addirittura Rosso Non è cotto Va bene Naturalmente Una volta preparato Così Voi lo potete Tenere in frigorifero Pronto Al momento Che Così Così Crudo Però Ben coperto Ben coperto Sempre Ben coperto Vedete Tutto Ben coperto Non lasciate La carne Macinata All'aperto Per carità Anche la carica Batterica Proflifera Le accortezze Solite Sembra Da tenere presente Quindi Lo tenete così pronto Al momento In cui dovete Andare a cucinare La mettete in forno Scendete il forno 180 gradi 180 gradi Mezz'ora Forse 40 minuti Dipenderà Sempre dal forno Io vedete Questa sarà la mia grandezza Se voi non avrete Lo stampo da plum cake Molto probabilmente Lo farete più sottile Più piccolo Di circonferenza E quindi cuocerà Più velocemente Oppure lo farete Più alto Più spesso Di circonferenza E cuocerà Meno velocemente Quindi I tempi di cottura Che noi vi indichiamo Sono sempre indicativi Dimmi regista Dimmi tutto Non so se spogliere No 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 Dite Deve andare in profondità Lo stecchino Fino in fondo Fino in fondo Certo la carne Allora Se voi La parte di sotto Del Non essere stupido La parte di sotto Del polpettone Naturalmente È cotta Più di quella Che sta in superficie Se voi andate a punzecchiare Vabbè Non certo La punta La punta Ovvio Un po' In profondità Scusami Non essere stupido No Dai Se voi andate a punzecchiare Il polpettone Questa parte C'è sufficiente Perché Se questa è cotta Figuriamoci quella di sotto Quindi La parte superiore È sempre meno cotta Di quella di sotto Perché questa qui È quella che ha più contatto Con il calore Quindi E con la teglia Soprattutto Che gli dà Ancora più calore Va bene Ok Penso che Che ci siamo Ma se lo faccio Con la carne macinata Congelata Lo puoi fare Con la carne macinata Congelata L'importante È che la fai scongelare Prima Delucere prima E poi la scongelare Lo puoi fare Non sotto l'acqua No 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 La carne congelata Si fa scongelare A temperatura ambiente No Si fa scongelare Nel frigorifero Ah Addirittura Si esce dal freezer Si mette nel frigorifero Ci fa scongelare lentamente Va bene In frigo In frigo Si Ok Posso aggiungere le patate Si potreste aggiungere le patate Però non so se ce la fai Nel tempo di cottura Del polpettone Fare le patate Se le metti in una teglia Magari dagli una sbollentata Di qualche secondo Prima E poi aggiungere nella teglia Però non questa qui A quel punto Metti lo stesso La carta A forma con il polpettone E poi Nella teglia Gli metti le patate Intorno Condite Con olio Sale Rosmarino Però dagli una sbollentata Di qualche minuto Va bene Poi Che più Si No no Che domanda stupida No Non ci sono domande stupide Non ci arrivo Non ci arrivo Nessuna domanda stupida Tranne quando mi chiedono Di che colore È il cavallo bianco Di Napoleone Allora io lì Non rispondo Di che colore È il cavallo bianco Di Napoleone Quando mi fanno le domande In privato Oppure mi fanno domande Dove io ho già detto Tutto nella ricetta E mi richiedono La stessa cosa Allora io lì Non rispondo Dico sempre Leggete la ricetta Però è solamente Per dire Va bene Oggi è fatto Zucchine Patate al forno Come erano Manuela Erano buone Ma per renderlo croccante Con una Crosticina Che cosa si fa Quando è cotto Il polpettone Che avete fatto la prova Con lo stuzzicadenti Oppure con la forchetta Lo togliete Dalla carta a forno Oppure lo aprite Semplicemente Allora Adesso vi faccio vedere Facciamo così Facciamo che la chiusura La mettiamo in alto Così Quando è cotto Il polpettone Voi Andate ad aprire Così E fate la prova Con lo stecchino Se esce il liquido Chiaro È Cotto Se esce il liquido Rosa O rosso Non è cotto Se volete Che venga Una bella crosta Che fate Aprite il polpettone Così E gli date Una botta di grill Sia che L'abbiate messo Nello stappo Da plum cake Sia che L'abbiate messo In una teglia Qualsiasi Potete fare Trattivamente Questa cosa Potete fare Anche un'altra cosa Però Lo dovete fare Un po' più sottile Non così alto Potete metterlo O nella pasta sfoglia O nella pasta del pane E fare un polpettone In crosta Va bene? Io li chiudo Ora Io lo metterò A cuocere E poi Appena ho finito Io La ricetta Già ce l'ho scritta Devo solamente mettere Le fotografie E la fotografia Del prodotto Pronto Appena ho finito La diretta Io la metto A cuocere E vi faccio vedere Il risultato Del polpettone A cotto Va bene? Ok? Perfetto Ottima idea Scusami Bellezza Mi sono perso Il procedimento Dove posso Vedere la ricetta? Adesso Su Youtube Fra 5 minuti Appena finisce La diretta Il tempo di caricare 10 minuti Quarto d'ora E lo trovi su Youtube Va bene? Ciao Frontoronto Ciao Meri di Capua Ok Abbiamo su Youtube Iscrivetevi a Youtube Esattamente Iscrivetevi a Youtube Se vi piacciono Le ricette Condividetene Sì Bisogna mettere Necessariamente Il rosolarino No 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 Io l'ho messo Perché a me piace Voi potete anche Non metterlo Assolutamente Opposto del rosolarino Vi piace la salve Mettetela salve Vi piace la loro Mettetela loro Non vi piace niente Non mettete niente Tranquillamente No Non dovete metterlo Per forza Queste cose Niente Nella cucina Niente È per forza A meno che Non parliamo Dei dolci Per i dolci Il discorso cambia Perché i dolci Sono tutti una questione Di chimica E di scienza Allora lì Ci sono cose Che bisogna mettere Per forza Eppure ormai Quelli più bravi di me Hanno trovato la soluzione Per sostituire tutto Si sostituisce tutto Ormai Va bene Ok Latte senza il pane Quanto? Ad occhio Grazie Santina Ad occhio Puoi mettere Mezzo chilo Mezzo bicchiere Di latte Se non metto il pane Perché naturalmente Noi stiamo parlando Anche di un prodotto Che senza pane Sarebbe ottimo Per i celiaci Ecco perché io a volte Il pane non lo utilizzo Soprattutto al lavoro Ci sono i celiaci Non lo utilizziamo Va bene? E quindi se utilizzate Solamente il latte Mezzo bicchiere di latte Ad occhio Su mezzo chilo Mezzo bicchiere di latte Va bene? Va bene Ok Ottima ricetta Grazie mille Ok Se la preparo in crosta In superficie Posso mettere Comunque Sì 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 Se la preparo in crosta In superficie Puoi mettere lo stesso Rosmarino Dimmi regista Hai qualche problema Ok Va bene Ok Abbiamo spiegato tutto Aspetta fammi vedere Che ci sono le domande Ciao Da quanto tempo Ciao Se lo preparo in crosta In crosta Naturalmente Prima di passarlo Nella crosta Potreste anche Avvolgerlo Nel In qualche salume Quindi pancetta Spec Quello che volete voi Ok Ok Va bene Allora Come vi dicevo La diretta Adesso sarà salvata Su youtube Iscrivetevi al canale Youtube Se vi è piaciuta Questa ricetta Condividetela La pagina Mi piace Condividete Sì E poi Quando 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 Sarà cotto Il polpettone Vi faccio vedere La ricetta completa Va bene Diciamo che ci sono Dei rumori Di sottofondo Che sono così fastidiosi Che Ci stanno facendo Veramente È come un martellamento Nel cervello Perché Fra me che parlo E il rumore Di sottofondo Non si capisce niente Ecco perché Siamo un po' Infastiditi È solamente questo Ok Allora Noi ci vediamo Giovedì Pomeriggio Alle 4 e mezza Per fare un dolce Insieme Per il momento Non so ancora Che cosa fare Voi se avete dei suggerimenti Suggeritevi Ecco Va bene Ok Ora io vado a cuocere il polpettone E poi vi scrivo la ricetta Ok Grazie a tutti Ci vediamo giovedì E più tardi Con la ricetta Completa Ciao a tutti Ciao Mattias Ciao Noemi Ciao Ciao Alla prossima Alla prossima